Sono 13 anni che stiamo insieme, hai due opzioni, o mi sposi o mi sposi. Hai ragione, mi vuoi sposare? Veramente non saprei. Enzo vuole fare una cosa non pomposa. Ma 60 cesti di rose e 50 di fiori misti, io dove li metto? Don Libò, però io con voi ho fatto il battesimo, la comunione, la cresima, mi sono cliente. Ma voi siete fatti due conti? 850 euro mensili. 6.000 euro. 20.000 euro. Dobbiamo togliere qualcosa. E che vuoi togliere? Il matrimonio. 100 euro, neanche i soldi delle manci dei cani. Che quant'è? 200 euro. Sei di loro 200 euro. Noi non è che siamo proprio in viaggio di nozze. Siamo a Vosbellu, Germania. Dove è stato cucino? 5 minuti arriva. Tu sei la sposina. È l'ottico che posso mai essere, che siamo qua da 5-6 ore a aspettare come due poveri sfortunati. Faccio te! Complimenti per la scelta. E' un bijou. Non ti preoccupare, il tempo è di pagare i debiti che abbiamo a Napoli e ce ne torniamo. Ho fatto il testo, feconda. E prima chi è arrivato? Solo tu le vuoi dire queste cose? Monica è feconda. E chi è prima? Non sono solo io, siamo due cretini. Io a Napoli ci voglio tornare. In prima classe. Lui è il nostro amico, il tunisino. La birra. Non lo so se hanno una birra. La birra. Angolo, ma che camminiamo con le birre nella tasca? La birra è un uomo, vaiù, ma t'ha posto? Ma il tunisino è la tua forcella. Ma va che cari? Yeah, I want you to be mine.